Siamo nella pinetina di Viale Roma a Guidonia Centro dove stamane è stata scoperta la sparizione di un pino piantato nei giorni scorsi. Siamo col consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Maurizio Celani che ha scoperto questa sparizione. Buongiorno, non tanto buongiorno perché veramente nonostante tutti gli sforzi, il lavoro svolto, i sacrifici per ridare dignità alla pinetina che storicamente abbiamo dovuto abbattere degli alberi pericolosi quindi ci siamo impegnati per sostituirli, metterne di nuovi. Si abbassi consigliere, mostriamo che cosa è rimasto. E' rimasta una buca, cioè voglio dire portato via albero e sostegno e vandalizzato quello vicino. Andiamo a vedere quello vandalizzato. Abbiamo in qualche modo riappoggiato il sostegno all'albero ma questo purtroppo è solo riappoggiato adesso dovremmo impegnarci per farlo, impegnarci insomma, mandare qualcuno che lo risistemi perché alquilmente questo pure era pronto per essere portato via probabilmente. Quindi quello sparito hanno portato via l'albero completo di... I sostegni, è perché se no se dove lo andranno a piantare come lo reggono. Voglio dire, è veramente un appello a chi si è preso, riportatelo, se no andate a comprare un alberello insomma se volete mettere dentro casa. Questa è una cosa vergognosa, questo è uno schiaffo a tutti i cittadini di Quilogna Monticeglie, vergognateli.